Vinci un cognome sintomatico, allora le tue ultime gare, le più grandi soddisfazioni? Le più grandi soddisfazioni sono stati i campionati italiani juniores, solo quelli per quest'anno. E quali saranno i tuoi prossimi impegni? Tentiamo qualcosina gli europei junior, in Spagna, e gli assoluti a fine anno. Ricordiamo la tua categoria, quanto è il tuo record? Il mio record sono 149 di strappo e 190 di slancio. La tua categoria? Più 105. Bocca al lupo per i prossimi impegni. Grazie.